barman italia we are a barman community unisciti al nostro gruppo whatsapp barman italia per gli aggiornamenti professionali e news direttamente sul tuo telefono sarà in contatto con tantissimi barman da tutta italia e non solo con i quali potrai condividere e confrontare le tue idee clicca sul link o cercaci su google ti aspettiamo grazie